Confida in una possibilità, non c'è una riammissione, c'è semplicemente la richiesta di considerazione da parte della FIP rispetto a una neonata società che grazie alla storia cestistica della città di Avellino e della provincia può a mio avviso ambire a essere ricollocata in Lega 2, in una situazione in cui si è creata una vacanza all'interno dell'organigramma delle società nel secondo campionato nazionale, quindi si attende con serenità quelli che saranno gli esiti di questo importante Consiglio federale. Dovesse essere riammessa la palla a canestro Avellino, temi un dualismo poi con la Scandone? No, 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 assolutamente no, tutti noi ci auguriamo che la Scandone possa uscire da questa situazione di difficoltà legata alla casa madre e quindi non ci sarà nessuna contrapposizione, nessun dualismo, non è nell'interesse di nessuno. Il duo Menotti-Sanfilippo-Devizia pronti a ritornare a costruire una nuova pagina di storia magari come quella scritta negli anni 2000? In verità ci sono anche altre persone, anzi in questo la famiglia Santilippo è solamente la parte più prettamente tecnica, ma ci sono altre persone che in tempi non sospetti hanno avvertito la necessità di provare a costruire qualcosa di diverso rispetto a una criticità della disciplina pallacanestro in città legata a vicende non sportive, perché poi dobbiamo ricordarci insomma che la doppia autoregressione nasce da vicende non sportive. La società è già al lavoro per allestire il roster e già ha in mente il coach in caso di A2? No, no, ci sono state delle interlocuzioni, ma sono tutti discorsi prematuri sinceramente. È chiaro che il mondo degli agenti della pallacanestro in una fase in cui comunque si cerca lavoro per i propri assistiti ha offerto giocatori anche di buon livello, però è chiaro che è tutto prematuro, perché è inutile parlare di qualcosa che potrebbe concretizzarsi, ma anche no. Grazie a tutti.